Buonasera a tutti, siamo contentissimi di avere con noi il capo redattore del secolo che è Luigi Leone, che tutti conoscete, tutti leggete sicuramente. Grazie Luigi, grazie mille. Allora io volevo chiedere a Luigi Leone il problema Fini, perché ora è un problema, cioè certe persone apprezzano quello che ha fatto Fini, certe persone no, dicono che ha tradito, vero o falso? Ma guarda, secondo me lì bisogna mettersi d'accordo su che cosa si intende per tradimento, perché se per tradimento si intende il fatto che Fini avrebbe dovuto soggiacere a tutte quelle che sono le richieste del Premier Silvio Berlusconi, allora si potrebbe dire che ha tradito. In realtà credo che Fini abbia semplicemente fatto un banale esercizio che si fa in politica, che è quello di esprimere delle proprie opinioni, anche di formi rispetto a quelle di Silvio Berlusconi, e quindi da questo punto di vista io francamente non mi sento di condividere la tesi di chi sostiene che Fini sia un traditore. Che poi Fini, diciamo, in qualche misura abbia abusato del suo ruolo di Presidente della Camera, questo è un argomento sul quale si potrebbe effettivamente discutere. Non so se al punto di pretendere le dimissioni, ma certamente al punto di chiedergli di fare un passo indietro rispetto alla polemica politica di ogni giorno. Lo stesso Renato Schifani, che è il Presidente del Senato, che era un uomo, anche lui, molto di campo, molto di battaglia, devo dire che sta interpretando il suo ruolo in termini rigorosamente istituzionali. Quindi forse da questo punto di vista l'atteggiamento di Fini può essere considerato discutibile. Luigi Leone viene considerato divorzio, perché a questo punto pareva all'inizio che andassero molto d'accordo e fossero contenti di aver fondato, no? Beh, oddio, contento Fini non lo è mai stato del partito, del PDL nato sul predellino, come si dice, tant'è che lui inizialmente disse siamo alle comiche finali, questa è una frase che credo perseguirà Fini fino all'ultimo dei suoi giorni, e poi dopo di che ha invece deciso di accettare questa scommessa del partito unico. Io ricordo, ora citarsi è sempre un esercizio da non fare, ma insomma giusto per dare un riferimento, io ricordo che scrissi un editoriale sul secolo XIX, proprio in occasione della confluenza di AN nel PDL, e scrissi che questa cosa qua avrebbe avuto delle enormi difficoltà a concretizzarsi davvero, perché AN comunque era un partito che aveva una sua storia, una sua tradizione, anche molto diversa da quello che è il modo di pensare e di comportarsi di Berlusconi, comportarsi dal punto di vista politico intendo. Quindi insomma non è che bisognasse avere la sfera di cristallo per immaginare che prima o poi sarebbero volati gli stracci, forse non fino a questo punto, però insomma diciamo che era quello tra Forza Italia e AN un matrimonio di interesse che ben presto ha rivelato i propri limiti. Da questo punto di vista devo dire che è stato più lungimirante Casini, che invece aveva deciso di non partecipare al partito unico, si è tenuto fuori, ora poi lui diciamo che può essere discutibile in questa sua politica dei due formi, per cui insomma da una parte si allea con il centro-destra e dall'altra con il centro-sinistra, qui in Liguria per esempio sta con il centro-sinistra, però insomma al di là di questo Casini ha avuto una sua coerenza rispetto agli elementi che politicamente lo dividevano da Berlusconi. Quanto meno nell'ipotesi di una convivenza sotto lo stesso tetto. Sì ma anche lì Casini ha detto, da una parte dice, deve dimettersi il Presidente del Consiglio, e poi dice stiamo con Berlusconi, non è che la gente normale, non Luigi Leone che è il top. La gente normale cosa dice? Questo è uno strano tecnicismo, perché? Perché Casini dice, se Berlusconi si dimette, passiamo attraverso una crisi politica, una crisi di governo, quindi Berlusconi è costretto ad ammettere che ha bisogno per esempio dell'Udc per poter ricostituire un governo. Questo significa che l'Udc può sedersi al tavolo della trattativa per costituire il governo diciamo con più forza rispetto al fatto che se si lasciasse cooptare nell'attuale governo. Perché nell'attuale governo, ora tutti sanno, insomma comunque i giornali lo hanno ampiamente scritto, che una dell'ipotesi era che il Ministero dello Sviluppo Economico, lasciato vacante da Scaiola, si è rimasto per 133 giorni, mi pare ormai siamo arrivati, libero, proprio perché Berlusconi confidava di utilizzarlo come merce di scambio per portare al governo Casini. Casini ha fatto resistenza perché ovviamente si presume che non si accontenti del Ministero dello Sviluppo Economico, ma vuole di più. E probabilmente, perché poi la politica è anche un'arte nobile, non è soltanto quello che vediamo il teatrino al quale stiamo assistendo negli ultimi mesi, e probabilmente vuole anche fissare dei paletti ben precisi su quella che deve essere l'azione di governo e su quelli che sono gli obiettivi dell'Udc, che sappiamo è un partito cattolico, quindi con molta attenzione ai problemi della famiglia e quindi certamente vorrà inserire nel programma di un eventuale nuovo governo tutti questi aspetti che stanno a cuore a Casini, al suo partito. Luigi Reone, il fatto Gheddafi è stato un fatto che ha traumatizzato molta gente? Guarda Gheddafi... La tenda, i cavalli, le ragazze... È stata secondo me una brutta pagina di Realpolitik, nel senso che a prima vista è stato uno spettacolo davvero in verecondo, devo dire, intanto perché questo signore è arrivato in Italia e la prima cosa che ha detto è che l'Europa si deve islamizzare, la seconda cosa che ha fatto ha voluto 500 belle ragazze alle quali ha fatto una lezione sui comportamenti islamici. Dopodiché però dobbiamo considerare anche che il nostro paese fa affari e affari molto importanti con la Libia. Ora il punto è che non deve mai, questa è la mia opinione perlomeno, non deve mai venire meno la dignità del paese e nella fattispecie anche di un primo ministro rispetto a quello che può essere il volume degli affari che si possono mettere in campo con un paese tra virgolette amico. Da questo punto di vista qua secondo me Berlusconi ha sbagliato e la dimostrazione l'abbiamo avuta peraltro non più tardi di ieri con il peschereccio italiano che è stato mitragliato a Mazzara del Vallo dopo che appunto Ghezzafi era venuto qua e aveva fatto praticamente il padrone di casa. Sai Luigi Leone cosa ti dico, quando ho visto quei 30 cavalli con quelli e i nostri carabinieri mi sono rattristata, molto, perché non ci avevo, che ci azzeccavano i nostri meravigliosi carabinieri con quei, con quei predoni del deserto, non ci azzeccavano niente. Qui viene fuori il carattere tipico delle dittature, il signor Ghezzafi è un dittatore che fa il dittatore non solo a casa sua, ma fa il dittatore anche quando varca i confini del suo paese e secondo me, ripeto, l'errore che ha fatto il governo italiano è stato quello di consentirgli certe licenze anche nel nostro paese. Ripeto, un conto sono gli affari, per quelli ci si siede intorno a un tavolo e si ragiona. Ghezzafi accampa anche, ovviamente, per certi versi persino a ragione alcune pendenze legate alle vicende belliche, però dopodiché, come si dice, anche il peggiore dei delitti alla fine viene espiato, perché altrimenti non è che si può vivere una vita intera scontando un peccato. C'è poi il momento del perdono in cui se si devono fare dei affari insieme, come dicevo, ci si siede intorno a un tavolo e altrimenti ognuno per la propria strada. Ecco, l'ultima domanda, perché poi purtroppo il tempo è destinato a Luigi Leone, ma lo ritroveremo a promesso. Allora, l'ultima domanda velocissima, questa crisi economica, ancora andrà avanti tanto? Guarda, sulla crisi economica secondo me è stato detto molto e troppo poco, molto nel senso che giornali, televisioni, tutti i mass media se ne sono diffusamente occupati, troppo poco, nel senso che da un certo momento in poi, per primo il governo, ma non solo il governo, ha creato l'illusione che la crisi fosse superata. L'Italia ha avuto un impatto che per certi versi è stato minore rispetto ad altri paesi, anche occidentali, agli stessi Stati Uniti, per esempio, perché consideriamo che negli USA è fallita una grande banca d'affari quale era Lehman Brothers. In Italia fortunatamente tutto questo non è successo. Però era del tutto evidente che per le imprese, diciamo, dal 2008 in poi sarebbero stati dolori. Ora c'è un timido accenno di ripresa, ma è ancora molto timido e soprattutto è un accenno di ripresa che non consente di riassorbire tutta la forza lavoro che è finita in cassa integrazione o che invece non riesce a trovare lavoro. Quindi io non mi sento francamente, pur occupandomi molto spesso di questioni economiche, non mi sento di dire almeno fino al 2012 che questo paese abbia prospettive di crescita più forti di quelle che sta avendo. Iniziamo, parliamo dell'1%, 1,1,09 del PIL e credo che non più di questo riusciremo a fare. Ovviamente una crescita di questo genere non consente di riassorbire la crisi. Secondo gli ultimi dati, noi per ritornare al livello del PIL del 2005, mi pare, se non ricordo male, abbiamo necessità di avere di fronte altri 4, 5, 6 anni di duro lavoro. Quindi insomma la situazione non è affatto rosia, ma del resto basta andare credo per la strada a parlare con le persone. Sì, le persone sì, ma invece qualcuno dice che no. Un immediato, beh insomma il qualcuno che dice che no, io lo invidio perché è un ottimista, perché nella vita probabilmente le cose, anzi sicuramente è meglio affrontarle con un po' di ottimismo che non con il pessimismo, però credo insomma che per chi fa informazione come me sia un dovere essere realista, quindi né ottimista né pessimista, dire le cose come stanno e quantomeno per come le vedo io, ecco, in questa circostanza. Noi siamo molto affezionati a Luigi Leone perché a noi piace come scrive Luigi Leone, col vento in poppa. Grazie Luigi, grazie mille, grazie mille. Noi ci vediamo domani sera alla stessa ora. Buonasera. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.